La persona con una disabilità visiva prelevare autonomamente al Bancomat. Io sono Marco e oggi ve lo spiego. Con il tasto 5 attiviamo il servizio di guida vocale. Buongiorno, ha attivato il servizio Bancomat con guida vocale. Prema il tasto 3 per attivare il prezio di guida vocale. Prema il tasto 5 se desidera ricevere ulteriori informazioni sul servizio, altrimenti attenta riceverà indicazioni per inserire la sua carta. Può abbassare il volume di questa voce premendo il tasto 7. Può abbassare il volume di questa voce premendo il tasto 9. Prema il tasto 8 se desidera oscurare lo schermo. Per favore inserisca la carta nel vittore, che si trova in alto a destra rispetto al tastierino in mezzo. Antenne premendo operazioni in corso. All'interno. Se desidera effettuare un prelievo, premendo. 1. Se desidera fare una ricarica... Inseriamo un 1 per il prelievo. 2. Al prelievo potrà essere applicata una commissione se previsto dalla sua banca. Inserisca il codice segreto della sua carta. Utilizzare un apposito tastierino in mezzo. Grazie. Comperiamo. Inserisca l'importo che desidera prelievare. Utilizzare un'apposito tastierino in mezzo. 3. Conferma il prelievo. Operazioni in corso. Ha scelto di prelievare un importo variato. 200. Ehi. Prema, conferma per proseguire. Altrimenti prema il tasto seguito. Desidera questa un po' della ricevuta di prelievo? Se la risposta è sì, prema il tasto conferma. Altrimenti prema il tasto seguito. Annulliamo per non averla ricevuta. Retire la carta entro 30 secondi. Ci dice di ritirare la carta. Retire le panconote. Tra l'apposito parte. E il più 30 secondi. Retire le panconote. Prelievo effettuato. Sono Vincenzo Ferrante, vicepresidente nazionale di consumo in Italia. Il consiglio che mi sento di dare ai consumatori è quello che, se si accorgono di un'operazione che non riconoscono e che è stata addebitata sul proprio conto, sulla propria carta di credito, è importante sapere che è possibile contestarla. Il cliente deve avvisare del furto, dello smarrimento o dell'operazione non autorizzata non appena ne viene a conoscenza. Perché una comunicazione tempestiva impedisce ulteriori pagamenti da parte dei truffatori e in generale dimostra la diligenza del cliente. Quindi, se il cliente si è comportato con attenzione, secondo le regole del contratto, ha il diritto al riborso delle somme eventualmente sottratte. Grazie.